C'è un nuovo caso di coronavirus nel Cilento. Secondo il bollettino diffuso dall'Asela di Salerno nella giornata di ieri, si tratta di una donna originaria dell'Ucraina, rientrata recentemente dopo una visita nel suo paese d'origine. La donna è residente nella frazione di Piano Vetrale, ricostruita alla catena dei contatti per isolare il caso. Sono state immediatamente adottate tutte le misure di sicurezza. La signora è stata posta in isolamento domiciliare, sta bene e non ha febbre. A dichiararlo è il primo cittadino di Oria, Mauro Inverso, sul suo profilo Facebook. L'Asela ha effettuato una prima mappatura dei contatti stretti, individuando altre quattro persone che sono state già poste in isolamento domiciliare in attesa dei tamponi. La situazione è sotto controllo e costantemente monitorata, sottolinea il sindaco Inverso. Pur tuttavia invito tutti alla prudenza e al rispetto del distanziamento sociale e delle regole anti-covid. Si invitano tutti i cittadini ad usare la mascherina nei locali chiusi e anche all'esterno quando non sono garantite le misure minime di distanziamento. Confido nella vostra collaborazione e vi terrò informati appena si avranno notizie ufficiali dall'Asela, conclude il primo cittadino. Situazione diversa invece a Casalvelino, dove ieri mattina, presso l'ospedale del Mare, l'anziana donna che qualche settimana fa risultò positiva al covid in seguito al ricovero presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per un blocco intestinale, come dichiarato da suo figlio in un post su Facebook, purtroppo non ce l'ha fatta. La donna era stata trasportata in via del tutto precauzionale presso la struttura ospedaliera napoletana e ieri mattina la triste notizia. Le sue condizioni di salute, già compromesse da tempo, non le hanno permesso di riprendersi. L'anziana donna non è deceduta a causa del virus, ma per complicazioni che sono sopraggiunte in seguito alla sua malattia. La situazione nel comune costiero attualmente è di due positivi. Deceduto anche un uomo di Pisciotta, che era stato contagiato in seguito alla cena con il medico salernitano. Anche qui la morte non è da attribuire al virus, ma malattie pregresse che ne hanno decretato la morte. Sgomenta l'intera comunità di Pisciotta perché l'uomo era molto conosciuto e ben voluto da tutti. Ad Agropoli resta stabile la situazione dei contagi. Sono sei in totale. La prossima settimana inizieranno i primi controlli con relativi tamponi di verifica sui casi positivi accertati, come prevede il protocollo dell'Asla di Salerno. Nella città dei Templi la situazione attuale è questa. Sono sei le persone contagiate che in queste ultime settimane hanno già ricevuto il tampone di verifica da parte dell'Asla per il riscontro della negatività al virus. Ieri il secondo tampone di cui si attendono i risultati per capire se i cittadini hanno raggiunto la negatività al covid. La situazione attuale dei casi nel Cilento è la seguente. A Pisciotta 23 casi, di cui un decesso, a Casalvelino 2 positivi, a Capaccio Pestum e ad Agropoli 6 le persone contagiate.